Giulia Salemi e Francesco Presto genitori? La risposta al Maurizio Costanzo Show Giulia Salemi e Francesco Monte saranno ospiti della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show. . Stiamo parlando di una delle coppie più seguite e amate del momento. Sono un punto di riferimento per tantissimi giovani, infatti condividono sui social tantissimi momenti della loro quotidianità. Durante la prossima puntata dello storico programma condotto da Maurizio Costanzo, il giornalista ha posto ai due una domanda quanto meno insolita. . Definendoli belli e affiatati gli ha chiesto se intendono diventare genitori. . I due hanno risposto, sorridendo e scherzandoci un po su. . In particolare Francesco Monte ha girato intorno allargomento mentre Giulia Salemi ha ammesso che sogna di diventare madre. . Giulia e Francesco dopo Il Grande Fratello. . I due si sono conosciuti nell'ultima edizione del Grande Fratello VIP dove lei ha cercato di conquistarlo. . . L'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto intraprendere la relazione con i piedi di piombo, ancora scottato da quanto accaduto nella stessa casa con Cecilia Rodriguez che nell'edizione precedente si era fidanzata con Ignazio Moser. . L'influencer si è lanciata a capofitto nella storia volendolo conoscere. Nonostante le resistenze iniziali di Monte le cose sono andate avanti, tra alti e bassi, soprattutto all'interno della casa. . L'atteggiamento troppo accondiscendente di Giulia Salemi l'ha trascinata al centro delle critiche, tanto che c'è stata chi l'ha chiamata Zerbino. . In molti temevano che usciti dall'esperienza del reality la coppia scoppiasse velocemente. Fortunatamente i due sembrano più affiatati che mai. . Sui loro profili social appaiono spesso insieme. . . Si scambiano dolci baci e partecipano e diverse serate e manifestazioni insieme. . Un amore che va a gonfie vele, in barba a quanti li hanno criticati e hanno etichettato la loro come una storia mediatica. . Giulia Salemi e Francesco Monte presto genitori?. . Come detto in precedenza nei giorni scorsi è stata registrata la prossima puntata del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti ci sono Giulia Salemi e Francesco Monte. . . Lo storico giornalista li ha intervistati chiedendo loro come sta procedendo la storia. . Ha fatto molto sorridere la domanda di Costanzo su quando intendono diventare genitori. . . Visto che siete così belli quando fate un figlio?. Giulia Salemi e Francesco Monte si sono guardanti in faccia sorridendo, un po' imbarazzati per la domanda inaspettata di Maurizio Costanzo. . Se la Salemi anche in passato ha dichiarato che vuole diventare madre, in questo caso ha preso la parole l'ex tronista di Uomini e Donne, chiarendo che sono felici ma che sono fidanzati da troppo poco tempo per parlare di un passo così importante. . .